Sì, sicuro? Io volevo farlo. Proviamo. Devo sfidare le regge della fisca. Sì, veramente. Aspetta, va. Poi tanto me lo faccio tagliare dal kit il video. Notare con cosa sto piegando. Aspetta, faccio la foto. Ah, la GoPro è l'entrata. Mamma mia. Andiamo da mano. Sta registrando comunque. Ah, buono. Sta registrando. No dai, dovrebbe l'è. Magari ogni tanto gli do una controllativa. Tanto ci sono io dietro. Al massimo te la capo. Aspetta, questi guanti però... li posso metterti nel lozzano. Andiamo giù di là. Giù di là e poi si risale tutto su. ci sono saluto. Grazie a tutti. 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 Ciao.